100.000 150.000 200.000 chilometri a più di 100 di media su strada tale è il risultato ufficiale che ha conseguito a Miramas una Simca Ariane equipaggiata col nuovo motore Rush Super a 5 supporti Simca Ariane, 1300 di cilindrata, robusta, confortevole e la vettura a 6 posti a più basso costo di esercizio fate una prova sull'Ariane presso il vostro concessionario Simca Grazie 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 Grazie